Il sindaco tagliani si è vantato che il bilancio sia in ordine ed è molto soddisfatto. Noi lo siamo a meno perché chiunque possa girare per la città, che è andato per strada, si rende conto che Ferrara è in grossa difficoltà. Per questo, soprattutto nell'ambito delle sociali, c'è molto da lavorare e in questa direzione vanno le nostre proposte per il bilancio del 2019. Svuotando alcuni finanziamenti del tutto inutili, come per esempio il finanziamento per i pannolini riutilizzabili, le lettiere compostabili per gatti, e Movida On, un evento del tutto fallimentare in piazza, intendiamo a finanziare il canile di Ferrara, quello che riguarda anche l'università universitaria, infine anche quello che riguarda le gravidanze per donne che si trovano in una situazione di difficoltà e un'ultima cosa, tenendo conto anche delle morti proverdose avvenute l'anno scorso, Fratelli Italia si impegna a combattere e contrastare la tossicodipendenza giovanile. Si tratta dei finanziamenti che riguardano ogni voce prima citata ai 10.000 euro, è un intervento poco incisito sul bilancio ma che davvero può fare la differenza per la vita dei molti giovani e i miei coetanei.